Torniamo ancora una volta a qualche istruzione preliminare prima di partire e suonare. Abbiamo già detto che, a seconda di come sono scritte le note, se sono nere, se sono bianche, se hanno una gamba oppure no, io devo contare mentalmente. Una nota nera richiede un solo numero, una nota bianca con la gamba mi chiede due numeri e una nota bianca senza la gamba me ne chiede quattro. Cosa voglio dire con questo? Che nel mio contare, scorrere con il tempo, se io conto uno, due, tre e quattro, perché è questo numero in alto che mi dice di contare fino a quattro in maniera continua, mentre dico uno suonerò questa nota, mentre dico due suonerò questa, mentre dico o penso tre suonerò quest'altra, mentre dico o penso quattro suonerò questa. Cioè uno, due, tre, quattro. Cosa vuol dire? La nota vale un numero e io ho fatto in modo che il suo suono durasse solo un numero, o il numero uno, o il numero due, o il numero tre, o il numero quattro. Attenzione a non confonderci con gli altri numeri che stanno scritti sotto o sopra. Questi indicano quali sono le dita che devono suonare le note. Non hanno niente a che fare con il tempo che devono durare. Passando a queste altre due note. Questa è una nota che vale due, che conta due, cioè devo contare nella mia mente fino a due prima di passare a quella dopo. Anche quella dopo conta due. Quindi vuol dire che mentre io conto, come sempre, fino a quattro, conterò 1 e 2 e terrò premuto questo tasto. Conterò 3 e 4 e premerò questo tasto. Qui la nota è la stessa, perché deve essere suonata una volta con la destra e una volta con la sinistra. Ora, per fare un semplice esempio, suonerò con la stessa mano, ma quello che conta in questo caso è che darò due numeri a questa nota e altri due a questo, cioè 1, 2, 3, 4. In questa battuta queste quattro note vengono suonate esattamente come queste. Ognuna di loro prenderà uno soltanto dei quattro numeri che io conterò. Quest'ultima nota è bianca, ma non ha la gamba, come queste. Cosa vuol dire? Lei si prende tutti e quattro i numeri che io devo contare. 1, 2, 3, 4.